Hai perso un film di successo al cinema? Vuoi godere dei tuoi film preferiti e delle serie tv in tutta comodità? E allora prendi un posto. Con Waki.tv è possibile noleggiare o acquistare le ultime novità di film di successo così come le migliori serie tv. A Waki.tv c'è sempre qualcosa da scoprire. Aggiungiamo nuovi contenuti ogni settimana. Inoltre puoi avere tutti i contenuti disponibili ovunque e quando vuoi. Il catalogo è accessibile tramite streaming istantaneo da varie marche di smart tv, dispositivi mobili e console di gioco. Ci vorranno solo 10 secondi per creare un account e poi si è pronti per iniziare a utilizzare Waki.tv. È ancora possibile utilizzarlo per segnare film o serie che si desidera vedere in seguito con la funzione miei preferiti. Iscriviti gratuitamente oggi stesso e inizia a godere i migliori film in tutta comodità, in alta qualità. È senza attese di download. Ora decidi. Adesso hai il controllo.